Musica Amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale è lunedì mattina, piove a dirotto, ormai da tradizione delle ultime settimane ma noi siamo qui lo stesso con tutti i numeri del lunedì il box office di Inno al Cinema relativi ovviamente al weekend che si è appena concluso quello lungo per quanto riguarda l'Italia da mercoledì 8 a domenica 12 e quello regolare americano dal 10 al 12 novembre c'è un fenomeno italiano che continua a macinare dei numeri impressionanti e c'è l'esordio a livello globale americano e italiano anche nello specifico, andando più nel dettaglio che segna invece in negativo la storia di uno dei principali studi cinematografici quantomeno a livello di produzione e di successo degli ultimi quasi 20 anni partiamo dagli Stati Uniti e quindi come potete immaginare iniziamo a parlare appunto di questo titolo che segna il suo esordio assolutamente in negativo The Marvels, poi cerchiamo di non fare catastrofisti, mettiamo tutto in prospettiva però fatto sta che The Marvels, il nuovo film dei Marvel Studios ha esordito negli Stati Uniti con 47 milioni di dollari qualche settimana fa le proiezioni volevano un esordio di 60-70 milioni che sarebbe stato comunque basso per i canoni dell'MCU anche dell'MCU più recente, lo vedremo tra poco ma che non potevano e non lasciavano spazio non facevano pensare e non davano spazio a un risultato così possiamo dirlo deludente anche se ormai annunciato pensiamo intanto che Captain Marvel anche se va tenuto di conto che era il film che usciva tra Infinity War ed Endgame e quindi aveva un buzz intorno clamoroso però aveva come protagonista la Carol Danvers che è anche una delle tre protagoniste di The Marvels ha incassato al suo esordio negli Stati Uniti 153 milioni di dollari quindi il triplo e qualcosa di più di The Marvels i 47 milioni di The Marvels rappresentano, sì l'esordio più basso di sempre per un film del Marvel Cinematic Universe ci sono solo altri due film che nella storia dello studio diretto da Kevin Feige hanno incassato meno di 60 milioni nel loro weekend di esordio il primo è l'incredibile Hulk del 2008 quindi ai tempi della preistoria con 55.4 milioni di dollari l'altro un pochino più avanti, già un pochino nella Golden Age affermatissima dei Marvel Studios è Ant-Man nel 2015 con 57.2 milioni di dollari ma ora stiamo parlando del passato guardiamo al presente visto che insomma ormai sono mesi che le persone portano in bocca questa sorta di fatalità dei Marvel Studios basti vedere che Ant-Man and the Wasp Quantumania da molti considerati un flop clamoroso all'esordio negli Stati Uniti aveva incassato comunque 106 milioni di dollari tripla cifra mentre i Guardiani della Galassia e Blume 3 che comunque partivano avvantaggiati in quanto conclusione di un franchise amatissimo all'interno del franchise più ampio della Marvel aveva incassato 118 milioni quindi anche rispetto a quelli che erano i dati molto deludenti di Quantumania The Marvels risulta un tonfo ancora più clamoroso non va bene neanche se guardiamo altri concorrenti meno vistosi e anche più problematici perché per esempio ha incassato addirittura il 34% in meno di Eternals che non solo era un film particolare è un film che diciamolo non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico più ampio nazionale popolare dell'MCU ma usciva anche in un periodo quello pandemico ancora molto molto problematico con le dovute eccezioni per le uscite cinematografiche Eternals aveva incassato 71.2 milioni di dollari quindi un bel po' di più ma addirittura riesce a fare The Marvels peggio di The Flash di quest'anno che aveva incassato 55 milioni e addirittura quindi il 14% in meno di The Flash e addirittura il 29% in meno dell'esordio di Black Adam dell'anno scorso che aveva esordito con 67 milioni di dollari da che punto di vista lo si guardi è un risultato pessimo è un risultato terribile per i Marvel Studios è probabilmente il risultato al box office che rappresenta anche il punto di arrivo di una parabola in declino che negli ultimi mesi il franchise, il brand ha dovuto sopportare lo sapevamo non siamo qui a discutere di una performance improvvisa sorpresa inaspettata ormai questo più o meno intorno ai 50 milioni era il dato che veniva dato almeno dall'inizio della settimana scorsa come obiettivo raggiungibile dal film bisogna un attimino fermarsi e bisogna un attimino riflettere su cosa significa questo per il futuro io devo dire che paradossalmente credo che questo flop faccia bene ai Marvel Studios mi faccio forza ovviamente ragazzi non è che mi è successo qualcosa di tragico a me ma io sono affezionato ai Marvel Studios sono affezionato all'MCU credo tuttora che siano l'esperienza collettiva sul lungo termine cinematografica per eccellenza una vera e propria appunto esperienza collettiva globale che unisce gli spettatori e gli appassionati di tutto il mondo in una sorta di rito che si ripete ogni tot mesi ma sapete anche che negli ultimi mesi sono stato molto critico di quanto è successo dal post-end game o diciamo da dopo Far From Home quindi diciamo da dopo la fine della fase 3 si è persa la bussola un po' per colpa degli artisti un po' per colpa di chi gli artisti li pagava e li faceva lavorare e vedi Bob Chepek sotto la voce grande problema di Marvel Studios c'è stata la pandemia c'è stato l'arrivo di Disney Plus sotto pandemia e la credenza assoluta che lo streaming stava rappresentando il nuovo mercato ideale per le grandi major una tempesta quasi perfetta che ha portato il brand a indebolirsi nonostante alcuni successi importanti io continuo a vedere dire che Wakanda Forever Thor Love and Thunder Doctor Stranger non sono stati successi andate a vedere gli incassi e soprattutto metteteli come dice sempre il rapporto con gli incassi degli anni in cui sono usciti e vedrete che comunque sono stati successi importanti ridimensionati da una situazione globale cinematografica diversa negli anni post pandemici su The Marvels non ci sono non ci sono giustificazioni il film non è interessato al pubblico il film rappresenta una sorta di come si può dire è il tipo di prodotto di cui i fan dei Marvel Studios non avevano bisogno in questo momento di smarrimento c'era bisogno probabilmente di qualcosa di più forte qualcosa di un pochino che riaccendesse un po' la miccia dell'interesse io mi faccio forza appunto di una ritrovata chiarezza per il futuro Bob Iger qualche giorno fa durante la presentazione dei dati dell'ultimo trimestre della Disney ha riconosciuto il problema di aver aumentato da parte della Disney la Disney che lui non gestiva a quel momento in epoca pandemica di puntare sulla quantità dell'offerta piuttosto che sulla qualità hanno annunciato che rispetto ai 30 miliardi di un anno o due anni fa e ai 27 dell'anno scorso l'anno prossimo intendono spendere ancora meno sulla produzione dei contenuti 25 miliardi di dollari che sembrano tantissimi ma in realtà non lo sono anche perché buona parte di questi andranno nei diritti televisivi dello sport ESPN che in America la fa da padrona sui canali Disney tutte le notizie che sono uscite negli ultimi giorni rispetto ai Marvel Studios e alla Disney in generale mi fanno sperare in una modifica della rotta di marcia per il futuro il problema è che ci vorrà del tempo affinché questa rotta di marcia avvenga non è un caso che intanto i film che erano già stati prodotti o che erano entrati in produzione siano stati tutti rinviati di un anno o qualcosa di meno o qualcosa di più che il 2024 sarà uno dei più poveri per quanto riguarda le proposte cinematografiche non solo per quanto riguarda la Disney Kevin Feige ha avuto questa sorta di riunione a settembre con i creativi dopo essersi reso conto che qualcosa non va più nella macchina e quindi sono sicuro che Dietro Quinte sta lavorando per rimettere in cesto l'MCU fatto sta che l'MCU da questa batossa di The Marvel esce con le ossa rotte vedremo un solo film e una o due serie non mi ricordo due serie nel corso del 2024 quindi il 2024 sarà una sorta di anno disintossicante dai Marvel Studios vedremo Echo a gennaio che già è un prodotto che loro stessi considerano di nicchia tanto da farlo uscire con tutte le puntate allo stesso giorno per provare a sfruttare un po' il binge watch del pubblico e fidelizzarlo magari sul prodotto in questione poi arriverà Deadpool a luglio e nella seconda metà dell'anno la serie tv su Agatha Harkness quindi il 2024 sarà una sorta di pausa anche necessaria a Kevin Feige per cercare appunto di rimappare il futuro The Marvel Studios fatto sta che questa è una ferita che si farà sentire parecchio nel corpo diciamo e nella salute dei Marvel Studios di qui ai prossimi anni non vanno bene le cose neanche nel resto del mondo perché a livello internazionale l'incasso nel weekend di esordio di The Marvel è pari a 63.3 milioni di dollari il totale fra gli Stati Uniti e il resto del mondo è di 110 milioni di dollari le speranze erano di raggiungere quantomeno i 140 si tratta pensate di un calo del 75 75% rispetto ai 455.5 milioni incassati da Captain Marvel nel weekend di esordio Captain Marvel ha fatto quasi mezzo miliardo di dollari in un weekend questo film ne ha fatti a malapena 110 un quinto un dato sinceramente sconvolgente nello specifico a livello internazionale si segnala per esempio il calo gigantesco monumentale del film in Cina rispetto al suo predecessore Captain Marvel aveva incassato 89.3 milioni nel primo weekend di programmazione in Cina sappiamo però che la Cina è stata ridimensionata negli ultimi due o tre anni come mercato d'oro per le produzioni hollywoodiane 11.7 sono i milioni incassati in Cina da The Marvels questo weekend date abbastanza sconvolgenti non andrà non andrà bene nei prossimi weekend perché avrà una concorrenza abbastanza spiegata e soprattutto in target con il tipo di pubblico la prossima settimana esce Hunger Games la ballata bla 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 del serpente dell'usignolo la settimana dopo ancora esce Wish film per tutte le famiglie quindi nonostante dubito che ci sarà un crollo subitaneo a questo punto c'è da chiedersi dove arriverà il totale di The Marvels un paio di puntate fa faccia di nerd abbiamo escluso la teoria del buon Alex Ignazio che il film avrebbe incassato al massimo 300 milioni ora io credo che andrà sopra i 300 milioni ma io non sono così convinto che riuscirà a raggiungere i 400 milioni sarà una botta bella forte pensate che i due incassi più bassi del Marvel Cinematic Universe sono di nuovo l'incredibile Hulk con 265 milioni ovviamente non aggiustati per inflazione e Captain America The Forest Avenger con 370 ecco se ora io dovessi fare una predizione su quale sarà il risultato finale a livello globale di The Marvels probabilmente la andrei a cercare a metà tra questi due risultati mettiamo che la prossima settimana il film forse qualcosa di più diciamo che metto fortemente in discussione la possibilità che il film possa raggiungere i 400 milioni dimostrandosi un tonfo che nessuno si sarebbe aspettato neanche qualche settimana fa se si pensa che i quasi 500 milioni di Ant-Man and the Wasp Quantumania sono considerati un fob clamoroso non so come potrà essere considerato il risultato finale di The Marvels che io a questo punto se tutto va bene e non è assolutamente detto il prossimo lunedì potremo parlare di un tonfo ancora più clamoroso di quanto sto dicendo adesso potrebbe essere il risultato di 350 milioni in questo momento con un calo che di solito si assesta sul 60-65% al secondo weekend avremo davanti un incasso al secondo weekend di circa 50-60 milioni in tutto il mondo facciamo 70 che lo avvicinerebbe a 200 più l'infrasettura settimanali forse sarebbe vicino ai 2,50 non credo che abbia altri 150 milioni in seguito da incassare soprattutto visto l'arrivo di concorrenza abbastanza forte secondo me e ripeto mi espongo un pochino potrei sbagliarmi potrebbero essere addirittura in dubbio i 350 milioni di risultato finale magari mi sbaglio magari alla fine il passaparola sarà più positivo che negativo perché comunque come sapete io il film nella sua leggerezza l'ho apprezzato e magari così farà non ho controllato il cinema score voglio vedere un attimo il cinema score in diretta anzi chiedo scusa di non averlo controllato prima il cinema score di The Marvels è il più basso dell'MCU insieme a quello di Quantumania e Eternals ovvero B e quindi anche lì non c'è un appoggio non che B sia un cinema score bassissimo e pessimo ma non è neanche il tipo di cinema score che ti fa avere cali più sostenuti di weekend in weekend si mette male si mette male per The Marvels non è tanto il problema del flop di per sé del film sapevamo che il film non avrebbe fatto i 750 milioni che sono il punto di pareggio per il budget fissato se non sbaglio intorno ai 250 forse addirittura qualcosa di più fa male perché l'ultima bastonata alle gambe di un franchise che da qualche mese nonostante il buon risultato di quadri della galassia volume 3 non naviga in buone acque soprattutto per quanto riguarda la sua reputazione sembra che i fan si stiano disinnamorando e a questo punto per Kevin Feige Kevin Feige ha bisogno di un vero e proprio miracolo editoriale produttivo e compagnia cantante l'abbiamo già detto anche a faccia di nerd quindi lo risottolineo velocemente poi proseguiamo con il resto degli incassi l'MCU non è morto non morirà in tempo breve ha semplicemente bisogno di trovare la giusta direzione con meno prodotti più intelligentemente concepiti e legati tra di loro cioè bisogno di riportare l'MCU verso dei lidi che il pubblico ha imparato ad amare cioè bisogno di investire in maniera più oculata su dei nuovi personaggi riportare una nuova diciamo squadra di Avengers sul grande schermo perché comunque Avengers è un franchise che almeno Finendgame chiamava il pubblico a raccolta in maniera più importante dei film singoli non è ancora troppo tardi ma se Kevin Feige e Enco vogliono salvare la baracca devono immediatamente rimettere in carreggiata il giocattolo altrimenti soccazzi in una in un fine settimana dove fondamentalmente The Marvel sarà l'unica nuova uscita di peso il resto della top 5 vede soltanto film in tenitura al secondo posto abbiamo Five Nights at Freddy's che dopo un calo mostruoso del quasi 80% nel secondo weekend si stabilizza un po' meglio al terzo weekend calando del 53% incassando 9 milioni l'abbiamo già detto lo ridiciamo tanto è tutto grasso che cola perché il film costato meno di 15 milioni ha raggiunto i 127.2 negli Stati Uniti dove è già diventato l'horror di maggior successo nel 2023 e ha raggiunto con i 15.4 milioni di questo weekend che rappresentano un calo del 62% fuori dagli Stati Uniti 124.7 milioni fuori nel resto del mondo fuori dagli Stati Uniti quindi il totale di Five Nights at Freddy's è di 251.9 milioni per un film costato meno di 15 milioni quindi un successo strepitoso un fenomeno di massa che come ho già detto neanche io mi aspettavo a questi livelli se le cose andranno come l'ultima settimana e l'ultimo weekend la prossima settimana o nel prossimo fine settimana o nel corso della successiva al massimo Five Nights at Freddy's diventerà l'horror di maggior incasso non solo a livello americano ma a livello globale è infatti a meno di 15 milioni da superare il risultato finale di The Nun 2 che è stato di 265.8 milioni secondo me ce la fa in scioltezza e quindi non solo un vero e proprio fenomeno in quanto film costato poco che incassa tantissimo ma appunto come horror a 360 gradi al terzo posto che ve lo dico a fare c'è ancora Taylor Swift di Eras Tour di nuovo lo risottolineo che in America va al cinema solo da un weekend all'altro senza infrasettimanali calo del 57% con 5.9 milioni incassati nel corso del weekend che portano al risultato americano a 172.5 milioni di dollari 11esimo incasso del 2023 in patria il totale fuori dagli Stati Uniti ha raggiunto 68.3 milioni per un totale globale di 240.9 milioni altra fabbrica di denaro per la povera Taylor Swift che non sa più dove mettere i soldi al quarto posto abbiamo Priscilla di Sofia Coppola il biopic su Priscilla Presley che espande va in espansione di sale aumenta in maniera importante il numero di sale diciamo che non ne giova più di tanto dell'aumento delle sale ma giova però di uno del miglior calo probabilmente della carriera di Sofia Coppola al secondo weekend meno 5% per Priscilla al secondo weekend con 4.7 milioni di dollari incassati nel weekend appena conclusosi è anche una delle migliori cali al secondo weekend del 2023 forse il miglior calo del 2023 facciamo un attimino un rapporto con altri titoli di Sofia Coppola The Beguild l'inganno era calato al secondo weekend del 37% Maria Antoinette addirittura del 47% The Bling Ring ancora peggio del 57% il totale raggiunto negli Stati Uniti dal film è di 12.7 milioni non ci sono ancora dati internazionali perché credo che il film debba ancora uscire praticamente in tutti i principali mercati l'abbiamo già detto per ora un buon risultato che dovrebbe portare a occhi e croce un totale negli Stati Uniti di 25 massimo 30 milioni 30 milioni che se non sbaglio è proprio il budget del film quindi diciamo che per risultare un vero e proprio successo commerciale avrebbe bisogno di grossi incassi internazionali ma lo sappiamo se non lo dico solo per Scorsese la gente si arrabbia determinati tipi di film vengono prodotti non solo per sbancare i botteghini ma anche per altri diciamo altre motivazioni artistiche di appoggio a grandi autori eccetera e a proposito del genere flop per eccellenza Killers of the Flower Moon nonostante tutto nonostante la negatività che lo circonda è ancora in top 5 dopo quasi un mese di programmazione cala solo del 32% al quarto weekend intanto i cali sono decisamente bassi per il film di Scorsese incassando 4.6 ovviamente sono bassi anche i dati ci mancherebbe altro 4.6 milioni nel suo quarto weekend di sfruttamento il totale in 24 giorni negli Stati Uniti ha raggiunto i 60 milioni 59.9 milioni nel resto del mondo il totale di 77.2 milioni quindi più interesse fuori dagli Stati Uniti che negli Stati Uniti per i film di Scorsese il totale è arrivato a 137.1 milioni di dollari in tutto il mondo visti dati di questo weekend come avevo già detto un paio di settimane fa 160-165 milioni secondo me sarà il risultato finale a fine corsa del film di Scorsese non voglio riaprire vecchie ferite vi basti dire che stamani visto che Box Office Report il sito che di solito consulto non aveva ancora pubblicato il suo articolo sono andato su un altro paio di siti entrambi dicevano un risultato non sufficiente ad entrare nel budget ma sappiamo tanto che Killers of the Forever Moon punta di più al prestigio e ai premi che i grandi incassi ma sto scemo io chiudo con qualche riferimento fuori dalla top 5 al sesto posto esordisce in 64 sale o meglio si espande da 64 a 778 sale The Holdovers il nuovo film di Alexander Payne grande regista di film quali Sideways Nebraska About Smith o Paradiso Amaro con George Clooney il nuovo film che vede riunire il regista con Paul Giamatti non lavoravano i due insieme appunto dai tempi di Sideways quindi una vita fa quasi vent'anni fa incassa 3.2 milioni e raggiunge un totale di 4.2 altro film che si dice sarà protagonista della stagione dei premi che quindi nelle prossime settimane potrebbe vedere un buon passaparola e un aumento dell'interesse sempre ovviamente nel contesto del cinema indipendente americano al settimo posto segnaliamo l'esordio di un nuovo ennesimo e ovviamente in linea con la stagione natalizia imminente film religioso prettamente prodotto per il pubblico americano Journey to Bethlehem Viaggio a Bethlehem incassa 2.4 milioni film ovviamente in costume di pura diciamo natura biblica più o meno al 50% di quanto è incassato all'esordio dagli ultimi titoli religiosi in diciamo linea produttiva con questo tipo The Blind After Death il documentario sulla vita dopo la morte e His Only Son che era uscito lo scorso marzo scusatemi al nono posto segnaliamo Radical il film messicano con Eugenio Derbess di cui parlavamo lo scorso weekend che è calato del 50% del 34% quindi in maniera ottima rispetto alla settimana scorsa aggiungendo 1.7 milioni al suo totale che ha raggiunto i 13 milioni 13 milioni in tutto il mondo quindi Stati Uniti più il resto del mondo qua dove per il resto del mondo si intende al 90% il Messico dove è registrato incassi stellari segnaliamo infine per quanto riguarda gli Stati Uniti l'esordio in limite di release in soli 6 cinema di Dream Scenario nuovo film prodotto dalla A24 con protagonista Nicolas Cage che in 6 cinema incassa 215.552 dollari registrando la settima media più alta dell'anno ovvero 35.925 dollari poi ovviamente il film si espanderà ma un pochino più avanti anche rispetto all'uscita italiana che se non sbaglio è questa settimana in America dovrebbe allargarsi in maniera importante più o meno agli inizi di dicembre che corsa di numeri Italia eccoci io qui devo partire dai dati generali perché se penso solo a un anno un anno e mezzo fa e alla negatività che circondava non solo i risultati al cinema mondiale ma soprattutto quelli italiani possiamo dire che quest'autunno e l'autunno 2023 vede non solo l'Italia tornare su dei buoni livelli ma letteralmente spazzare via le ombre e i fantasmi almeno per il momento poi vediamo come andrà la stagione natalizia che però a quanto pare sembra promettere decisamente meglio dell'anno scorso ed è di pochi mesi fa infatti questo weekend o meglio questa domenica domenica 12 novembre 2023 rispetto a quella di un anno fa che era il 13 novembre segna un aumento degli incassi del 66.71% un risultato straordinario per i cinema nostrani la settimana corrispondente all'anno scorso quella in cui usciva addirittura Black Panther Wakanda Forever vede un aumento del 47.75% e la cosa bella la cosa bella che secondo me va sottolineata è che questi aumenti percentuali importantissimi storici nell'epoca post-pandemica non dipendono da un solo titolo sì abbiamo un fenomeno un vero e proprio fenomeno di costume tutto italiano ma che come spesso dovrebbe succedere anzi come dovrebbe sempre succedere porta in sala di riflesso tante persone a vedere tanti titoli di cui ora vediamo la lista di nuovo in testa in Italia c'è ancora domani di Paola Cortellesi era un bel po' sinceramente che non si vedeva un fenomeno cinematografico del genere forse dai tempi dell'ultimo Zalone così a memoria soprattutto è da molto tempo che non si vedeva un fenomeno cinematografico italiano vivere una giovinezza stabile weekend dopo weekend ormai quasi da un mese soprattutto sul passaparola lo dicevo la settimana scorsa questo è un film che è quasi impossibile che una persona lo vada a vedere che non lo consiglia almeno altre tre persone che poi lo consiglia altre tre persone che lo consiglia altre tre persone e così via in maniera esponenziale ovvero è proprio crowd pleaser c'è ancora domani è proprio un film per le masse oltre ad essere un buon film cosa che di solito o spesso e volentieri non va a braccetto pensate che nel suo weekend appena conclusosi il terzo il terzo weekend che si è appena concluso il film registra un aumento del 28% negli incassi rispetto alla settimana scorsa con una media altissima di 7078 euro e incassa 4 milioni e mezzo 4 milioni 501 mila 776 euro per un totale di 12 milioni 935 mila 171 la settimana scorsa dicevo che il film partiva da una base di 15 milioni di euro di incasso finale ma a questo punto c'è da spostare la lancetta o meglio l'asticella del minimo sui 20 perché oggi supererà i 13 entro il prossimo weekend avrà superato in scioltezza i 15 anzi sarà più vicino ai 16 17 e avrà appunto un altro weekend probabilmente anche di maltempo ancora abbastanza lontano dai weekend degli acquisti e comunque dello shopping natalizio per macinare una valanga di milioni di euro io a questo punto direi che i 20 milioni sono garantiti garantiti e il limite è il cielo molti sostengono che il film riuscirà a stare in sala per tutto il periodo natalizio ecco io questo lo tendo a escluderlo perché già questa settimana abbiamo Hunger Games poi arrivano altri titoli di cui a Natale quali? Wish esce cosa cavolo esce aiutatemi aiutatemi mica siamo in diretta oddio ragazzi sono già fuso di lunedì mattina deve uscire Wonka deve uscire Diabolic deve uscire un sacco di titoli che io dubito permetteranno alla Cortellesi di stare in sala per tutto Natale ma anche qualora c'è ancora domani in Cassasse a questi livelli e andando a calare in maniera sostenuta da qui a Natale siamo davanti ripeto o meglio ci aspetta un risultato finale più vicino ai 30 che ai 20 per quanto mi riguarda poi si potrebbe andare addirittura sopra però non mi voglio troppo sbilanciare vediamo al quarto weekend come si comporterà la prossima settimana non mi ricordo il budget del film dovrebbe essere costato forse 9 milioni ho letto e ovviamente sappiamo che in Italia non facciamo il conto del per 3 per via dei soldi pubblici eccetera fatto sta che da qualsiasi punto di vista lo si guardi questo film che addirittura è il primo giorno di programmazione il giorno in cui sono andato a vederlo aveva incassato solo 100 mila euro paventando un insuccesso è diventato un vero e proprio fenomeno di massa io sinceramente ne sono contento perché come ho detto anche nella recensione senza spoiler sul canale è un film verso il quale non nutrivo particolari aspettative che mi ha piacevolmente sorpreso in positivo 13 milioni quindi per la Cortellesi al secondo posto abbiamo The Marbles che ha letteralmente sfigurato nei giornalieri rispetto alla Cortellesi ma ripeto il fenomeno Cortellesi ormai viaggia da solo che ha iniziato male fra giovedì e venerdì ma che si è un po' ripreso nel weekend 1.585.950 euro l'esordio di The Marbles in Italia che diventano 1.868.351 se si considera mercoledì e giovedì visto che il film qui è uscito appunto mercoledì 8 la media è di 3.975 io credo che il film in Italia potrà reggere bene nelle prossime settimane nonostante l'arrivo di The Hunger Games credo che insomma non si cannibalizzeranno troppo i film tra l'altro le proposte per famiglie poi saranno rimandate tutte Wish non arriva a fine novembre in Italia ma arriva per Natale quindi io penso che nonostante appunto sarà un incasso sotto tono rispetto agli standard Marvel anche da noi il film possa fare discretamente credo che ci sia ancora una fetta di pubblico che magari non si sia non si accorsa al primo giorno al primo weekend in sala ma che lo vorrà vedere nei prossimi giorni diciamo che possiamo vedere un bicchiere quasi mezzo pieno piuttosto che un disastro come a molti piace far passare questo tipo di dati al terzo posto Five Nights at Freddy's è un fenomeno anche qua da noi in Italia calo importante che ve lo dico a fare del 67% questo weekend per il film horror targato Blue Mouse Universal che però continua a incassare bene con una media di 2415 euro il totale di questo weekend è di 876.813 euro che porta a 4.825.486 il risultato totale quindi i 5 milioni li supererà probabilmente arriverà anche ai 6 e oltre e anche qua risultato a dir poco straordinario al quarto posto abbiamo Trolls 3 tutti insieme nuovo film animato targato Dreamworks Animation Studios che con una media di 2153 registra un incasso nel weekend è di 874.229 euro che diventano 1.197.319 se si includono le anteprime precedenti all'uscita regolare se non sbaglio il primo di novembre o Halloween insomma erano durante quei giorni lì a ridosso della festività chiude la top 5 italiana comandante di Edoardo De Angelis il film che lo ricordiamo è costato più di 15 milioni di euro continua a incassare bene e cala solo del 35% rispetto allo scorso weekend con una media di 1.370 euro 700.151 euro questo weekend che portano il suo totale a 2.653.400 euro io penso che il film abbia la possibilità di avvicinarsi ai 5 milioni finali forse addirittura di superarli ripeto non parliamo in termini di rapporto budget incassi in Italia per gli investimenti pubblici che coprono spesso e volentieri buona parte delle produzioni italiane si poteva pensare a qualcosa di più io sinceramente non potevo anche immaginarmi qualcosa di meno è un film comunque non lo so secondo me non l'hanno presentato bene non hanno puntato molto sulla diffusione un pochino più nazional popolare della trama e della natura anche di action war movie del film con Pierfrancesco Favino risultato discreto soddisfacente ma secondo me che poteva andare un pochino più in alto con un altro tipo di comunicazione riguardante il titolo vediamo il resto della top 10 italiana al sesto posto di nuovo Killers of the Flower Moon che sarà un flop quanto vi pare ma che in Italia questo weekend comunque incassa altri quasi 300.000 euro 288.957 euro per un totale ormai vicinissimo ai 5 milioni che supererà nei prossimi giorni di 4.896.299 euro film di 3 ore e 20 ve lo ricordo tutt'altro che movimentato al settimo posto So 10 273.921 euro che lo portano a un totale ottimo di 3.369.529 euro difficile che il film raggiunga i 4 milioni ma dovrebbe avvicinarsi più o meno a quel risultato psicologico all'ottavo posto I Me Contro Te il film Vacanze in Transilvania aggiunge 180.767 euro al suo totale che ha raggiunto i 4.455.466 euro chiuderà intorno ai 5 milioni più o meno come gli ultimi titoli l'ultimo paio di titoli del franchise al nono posto segnaliamo per esempio un'altra buona controprogrammazione Anatomia di una caduta il film Palma d'Oro 2023 ha raggiunto con 136.341 euro di questo weekend i 748.265 punta a chiudere secondo me sopra il milione o intorno allo stesso chiude la top 10 gioica a un passo dal sogno che con 70.401 euro ha raggiunto i 237.741 totali uh quanti numeri quanti dettagli allora quindi vedremo nelle prossime settimane come si evolverà il flop più clamoroso di quanto pensassimo di The Marvels questo weekend arriva Hunger Games la ballata del del serpente e dell'usignolo nei confronti dei quali c'è scetticismo soprattutto in madre patria io penso che incasserà più fuori dagli Stati Uniti che negli Stati Uniti un po' come molti blockbuster ultimamente hanno fatto soprattutto di un certo tipo non penso che sarà un flop clamoroso ma ora non mi ricordo il budget è costato abbastanza cercheremo di capire quanto il fenomeno Hunger Games è scaduto o quanto è riuscito a sopravvivere tanti anni dopo la trilogia anzi la quadrilogia a livello cinematografico con protagonista Jennifer Lawrence ci aspettano ancora molte settimane di nuove uscite di teniture interessanti e di dati da analizzare prima di arrivare alla fatidica stagione natalizia che sappiamo essere molto molto ricca di incassi chiaro quest'anno non c'è un avatar la via dell'acqua a regalarci soddisfazioni record sul record settimana dopo settimana ma appunto fra Wish che da noi esce più tardi Wonka Aquaman 2 compagnia cantante insomma ci sarà da vederne delle belle io vi ringrazio per aver seguito questa nuova ricca puntata di tutti i numeri del lunedì il box office di Inno al Cinema questa settimana ci vedremo in diretta con la nuova puntata di Movie Talk Show dedicata appunto a The Marvels dove discuteremo anche con spoiler del film insieme ad alcuni ospiti ci vediamo non so se riuscirò a vedere mercoledì Hunger Games la ballata dell'usignolo qualora non ci riuscissi andrò a vederlo giovedì e quindi fra mercoledì e giovedì aspettatevi la recensione senza spoiler del nuovo film del franchise basato su libri di Suzanne Collins e poi dovrebbe arrivare a ridosso del weekend un'altra live probabilmente un cinegiornale durante il quale vorrò parlare dei veri dati della verità dietro il mercato on video visto che nelle ultime settimane ne ho lette veramente ricotte di crude così come di altri dati relativi agli incassi e compagnia cantante voglio parlarvi del trailer del nuovo film dei Ghostbusters che mi è piaciuto tantissimo e voglio un attimino analizzare con voi tante notizie da discutere e sulle quali riflettere probabilmente insieme al buon Matteo Brandi che deve recuperare una live della settima del mese scorso da abbonato di livello pro di Inno Alcirma e con il quale sarò contento di discutere di questi argomenti e di molti altri oltre a interagire con voi in diretta quindi e poi arriverà un'anteprima o meglio una recensione in anteprima recensione in anteprima ora lo posso dire di Monarch Legacy of Monsters la serie tv che questa che venerdì prossimo arriva con le sue prime tre puntate su Apple TV Plus io ho avuto il privilegio di vedere queste prime tre puntate praticamente un mese fa ormai all'inizio di più di un mese fa all'inizio di ottobre nel frattempo ne ho viste altre cinque ho visto otto puntate su dieci della serie legata ai film del Monster vs. Warner quindi a Godzilla Godzilla King of the Monsters Kong Skull Island e Godzilla vs. Kong ovviamente non potrò parlare nel dettaglio delle puntate successive alle prime tre c'è un embargo sui contenuti ma sapete anche che io non mi metto qui a snocciolare dati spoiler e informazioni che potrebbero appunto andare contro questo embargo nelle mie recensioni parlerò un pochino in generale della mia opinione sul prodotto e sono molto contento di essere riuscito a vederlo in anteprima e lo rivedrò tutto man a mano che uscirà nel corso delle settimane anche per rivederlo con la mia ragazza Irene che comunque ha visto tutti i film insomma una settimana piuttosto ricca quella che ci aspetta su Inno al Cinema per tutte le novità sulla programmazione vi invito a seguire la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram se volete potete seguire anche il mio profilo Instagram privato Michelinno85 condividetelo al cinema con i vostri migliori nemici i vostri peggiori nemici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche così vi arriveranno tutte le novità sull'arrivo dei contenuti anche direttamente con le notifiche di YouTube tutti i numeri del lunedì eccoli qua vi auguro un buon inizio settimana andate al cinema che c'è un sacco di roba interessante da vederlo veramente per tutti i gusti dai che è un buon momento e un anno fa c'erano profezie ben peggiori per il futuro del cinema nel mondo ma soprattutto in Italia io sinceramente con tutta la modestia che è il caso gongolo un po' perché l'avevo detto di calmarsi un attimo e riflettere un po' su tutto soprattutto sullo streaming e la sua importanza perché bisogna parlare anche dei dati dello streaming visto che sono usciti i dati dell'ultimo trimestre di tutte le piattaforme sono tragici così mettiamo una volta per tutto il ridimensionamento anche il fenomeno dello streaming il grande futuro del cinema che ucciderà la sala insomma un sacco di novità un sacco di argomenti come sempre un po' polemici come da mia tradizione vi ringrazio di nuovo per aver seguito questo video un saluto e alla prossima ciao